Le unioni territoriali intercomunali è ancora al centro del dibattito politico. Dopo il consiglio comunale di ieri sera e con il voto dei consiglieri, stamane gli esponenti di un'altra Trieste, Trieste Popolare, hanno espresso il loro ramarico per il mancato scatto d'orgoglio che avrebbe dovuto caratterizzare i componenti del parlamentino triestino. Di fronte a un provvedimento, quello che istituisce le UTI, che tutti noi troviamo dannoso per Trieste, e lo trova dannoso anche la maggioranza, il PD, perché gli interventi sono stati di assolutamente scarso entusiasmo, beh, lì ci doveva essere lo scatto d'orgoglio dei triestini. Prima delle appartenenze ai partiti, si appartiene alla città di Trieste, si appartiene in qualche modo agli elettori e ai triestini che a tutti noi hanno votato. Quindi ci sarebbe aspettato che anche dal PD, di fronte a questo provvedimento, ci fosse stata quantomeno un'assenzione, dire non ci piace ciò che viene imposto dalla regione, anche se viene dal nostro partito, a noi triestini non piace e quindi non lo votiamo. Una delle competenze che passeranno all'UTI sarà anche il turismo, con tutto ciò che ne potrà conseguire dal punto di vista amministrativo. Il Comune di Trieste si spoglia del sviluppo economico, delle attività produttive e del turismo, competenze che passano dal Comune di Trieste alla UTI, quindi verranno condivise con gli altri comuni più piccoli, quindi con il rischio anche di essere appunto intasate da attività amministrativa. Ma soprattutto è singolare come il turismo, uno degli asset forti di questa città, non farà più parte delle competenze del Comune di Trieste. Infine, una battuta sulla città metropolitana e sull'atteggiamento degli altri partiti di centrodestra. Noi riteniamo sia una prospettiva molto interessante ed esplorare come modello amministrativo per il nostro territorio, per Trieste, per l'area giuliana e anche oltre i confini della vecchia provincia. Ma registriamo che anche su questo vi è parte del centrodestra che non alimenta il dibattito, non partecipa al dibattito perché non prende posizione, né in un senso né nell'altro. Beh, noi aspettiamo che delle forze politiche che rappresentano dei cittadini debbano in qualche modo esprimersi e rappresentare delle volontà.